La nostra attività, da un punto di vista pragmatico, è rivolta al cliente che vuole comprare sia la casa per abitarci, sia la casa perché vuole poi metterla in locazione e quindi avere una redditività da questo immobile, o anche il cliente abituato ad acquistare per operazioni di ristrutturazione e rivendita nel breve periodo per avere delle plusvalenze economiche. Quindi abbiamo diverse tipologie di cliente e per ogni cliente applichiamo metodologie di consulenza differenti, perché a secondo dell'obiettivo rivolgiamo una finalità di ricerca e di consulenza ben ritagliata sul cliente.